Ciao a tutti, oggi prepareremo la zucca alla mediterranea. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono zucca tagliata a fette, olive, pomodorini, aglio, rosmarino, origano, olio evo, sale, pepe, acqua. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua e un cucchiaino di sale. Chiudere con il coperchio senza il misurino. Abbiamo posizionato sul vassoio del Varoma un foglio di carta da forno bagnato e strizzato e abbiamo messo sopra la zucca tagliata a fette. Adesso la condiremo con il sale, rosmarino, l'origano, l'aglio, il pepe, l'olio, le olive e i pomodorini. Posizionare sul coperchio, chiudere e cuocere per 30 minuti. Temperatura Varoma, velocità 2. La zucca è cotta, impiattare e servire. Zucca alla mediterranea. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.